Il gelato si mangiava solo d'estate, poi piano piano si è abituati a mangiarlo tutto l'anno e così si sta tentando di fare con il panettone e lo trovo anche corretto, è vero la ricorrenza è ricorrenza, però diciamo che è importante degustare questo tipico prodotto tutto l'anno. Il vero panettone milanese con l'uvete e canditi, poi è come la pancetta che la mettono a stagionare dove c'è tanta nebbia, tanta umidità, è uguale il panettone, se noi prendiamo anche il panettone siciliano è un ottimo prodotto, non è come questo, sia la crosta o non la crosta, è tutta una cosa differente, è come la michetta, la michetta la fai a Milano e non la fai a Roma, non è come la nostra. Questo panettone viene lavorato 48 ore, poi abbiamo la differenza che se questo lo prendo in mano mi sembra di aver su una crema che è il burro e le uova, negli altri panettoni è una mano che è tutta asciutta, non si può comprare sotto i 18-20 euro, se no cambia. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.